Allora ragazzi voglio parlarvi di Society. Chi è che conosce Society? Chi è che l'ha già visto? Non stiamo parlando di un capolavoro, eh? Stiamo parlando però di un film molto interessante proprio perché non è un capolavoro. Vediamo, adesso cerco di fare una parte... Non spoiler. Guarda che difficile fare una parte non spoiler di Society. Intanto facciamo l'unboxing. C'è da dire che questo film diretto da Brian Ayuzna del 1989 è veramente un film che si basa sull'idea che c'è alla fine del film. Quindi c'è un colpo di scena chiamiamolo alla fine del film e se tu lo vai a svelare hai praticamente distrutto il film. Cioè non te ne fai più niente nel senso... Sì lo guardi perché è un film interessante comunque però perdi tutta quell'atmosfera che si crea, che Ayuzna riesce a creare. Allora innanzitutto Brian Ayuzna prima di questo film aveva fatto solo il produttore cinematografico per 4-5 progetti tra cui anche Tesoro mi sono stati ragazzi e aveva lavorato con altri registi importanti e insomma mi viene il nome cazzo. Quello di Reanimator. E io c'ho dei voti di memoria incredibili. Stuart Gordon. Comunque lui faceva il produttore. Aveva in ballo dei film da fare ma continuavano a sfumargli per via del fatto che appunto questi questi registi avevano altri impegni e a un certo punto decise di farsi lui la regia di un film. Ha deciso di fare il regista. Tra l'altro è molto interessante il fatto che lui aveva già quattro figli all'epoca e quindi sentiva l'esigenza di guadagnare con il cinema. Allora aveva capito in qualche maniera che fare il regista significava anche se il film andava bene prendersi tutta l'attenzione e quindi guadagnare anche una sorta di credibilità utile proprio per gli affari per poter fare altri film. Quindi decise di fare la regia e trovarono, aspettate che intanto cerco il trailer, trovarono i fondi tramite una società giapponese. Praticamente la sceneggiatura gli arrivò da altre persone e lui diciamo che si adattò a questa sceneggiatura inserendo anche alcune cose che interessavano a lui. Andiamo a a vederci il trailer. Senza che andate a spiare su Google, perché sennò non vale. Provate a indovinare che cos'altro ha fatto questo attore qua. E' odd. now you have to learn to accept that he's about to find out the truth so why are you guys doing this to me huh what you've been living with these people all your life and you don't know anything about this it's far worse than he could ever imagine if you don't follow the rules billy bad things happen didn't you know billy boy the ritual sucked off low-class scum like you hello guy Clarissa you don't know thanks now some people make the rules it's a question of what you're born too you never were one of us you know you really deserve what's going to happen to you I don't think so can't you see they're setting you up for something you know how I hate to give you drugs you're officially dead don't go home billy no 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 bill whitney is about to become one showtime billy with society who are you let me give you a bill in Beverly Hills what you fear is only the beginning anything for society anything allora allora il trailer uno dei peggiori trailer che abbia mai visto no non uno dei peggiori ma veramente moscio come pochi ma in realtà il film non è moscio per niente anzi il l'attore protagonista che si chiama bill warlock è un attore di baywatch sono sicuro che l'avete visto ma magari l'avete rimosso perché è passato anche un po' di tempo il film alla fine ruota tutto intorno a lui e lui devo dire che alla fine è bravo a interpretare il personaggio in tutte le sue sfumature perché è un ragazzo figlio di una famiglia benestante di Beverly Hills sono ricchi sfondati sono ricchi loro ricchi vicini ricchi quelli a sono tutti straricchi però lui sente di non essere in empatia con i propri genitori e con la propria sorella non si sente parte di quella famiglia sente che che c'è che non c'è lo stesso legame sente sempre inizialmente uno pensa chiaramente penserà che è il classico momento adolescenziale in cui il ragazzo ha bisogno di diciamo allontanarsi dalla famiglia rifiutare la famiglia rifiutare il loro le loro costrizioni il loro comunque il loro stato di potere in quanto genitori e infatti il ragazzo come vedete dal trailer andrà da uno psichiatra che a cui racconterà tutte i suoi problemi con la sua famiglia insomma a un certo punto questa è una prima parte poi non 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 entro nello spoiler vi dico solo questa cosa che incuriosisce potentemente a un certo punto il protagonista interpretato da Bill Warlock scoprirà tramite una registrazione su una un registratore portatile scoprirà sentirà i suoi familiari la sua sorella il suo padre la sua sorella da questo messaggio si capirà che queste tre persone insieme ad altri fanno delle orge quindi anche rapporti incestuosi rapporti incestuosi tra il padre la figlia la madre una roba inquietantissima ragazzi quando quando ci sarà questa scena sarà inquietantissima cioè solo vedere il ragazzo che scopre ascolta questo nastro e viene a conoscenza di questa realtà alternativa cioè una realtà che lui non conosceva sarà un momento estremamente horror e molto bello del film interpretato molto bene secondo me poi chiaramente gli attori non sono dichiaratura elevatissima tra l'altro Bill Warlock piccola curiosità è figlio di uno stuntman del cinema che ha interpretato Michael Myers in Halloween 2 e uno degli androidi sapete che in Halloween 3 ci sono gli androidi uno degli androidi di Halloween 3 quindi è in realtà un figlio di di una persona che già lavorava nel cinema ma non come attore come stuntman e comunque che già ha avuto a che fare con l'horror ed è anche un attore di Baywatch io in realtà non ricordavo questa cosa me ne sono accorto dopo quando ho visto ho letto un po' sul film e in effetti poi mi ricordavo che lui c'era in Baywatch è molto è molto interessante questo esordio alla regia di di Brian Yuzna perché fa fa delle cose particolari porta una fotografia nelle parti soprattutto nelle parti ecco vedete una fotografia illuminatissima a parte appunto le parti buie specifiche delle scene dei momenti horror ha una fotografia molto illuminata molto da quasi da da telenovelas da da Baywatch quasi no? e secondo me è molto interessante per per questo tipo di film perché rappresenta anche un po' questa plasticità della fotografia rappresenta un po' anche la la come si dice la superficialità l'artificiosità di questa società consumista di questi anni qua sono gli anni 80 di questa Beverly Hills tutta di macchine lucenti ville ville lucenti super super lussuose nel trailer chiaramente sono messe la maggior parte delle scene horror poi vabbè c'è sicuramente un po' di amicamenti a certe cose vedete qua proprio è Baywatch praticamente il tema cerco sempre di non andare nello spoiler è è un tema politico cioè un tema sociale di classi sociali e di stratificazione di questi di livelli di queste classi sociali cioè all'interno di questa comunità di persone ricche di Beverly Hills ci sono delle situazioni esclusive a cui solo alcuni possono accedere appunto c'è la society la società diciamo che c'è un tema della classe dominante nel film c'è il tema della classe dominante che è un tema che all'epoca non era così ben visto così capito così accettato nel senso che era quasi qualcosa a cui la gente non credeva non credeva che potesse esistere una classe dominante che fondamentalmente pilotava le situazioni governava il paese schiacciava il paese oggi questo concetto di ricchi potenti aziende potenti ricchi che dominano il mondo questo concetto è molto chiaro e anche e anche molto accettato no anche se purtroppo poi sfocia nel come dire nel del complottismo e quindi sfociando nel complottismo è quasi come se lo andassi a nientare lo andassi a annullare no perché chiaramente se poi rendi tutto ridicolo ed estremizzato all'enzima potenza chiaramente diventa inaccettabile cioè diventa tutto vero e tutto falso in realtà sappiamo in realtà il concetto di classe dominante persone potenti che fanno cose da potenti e che quindi influenzano il globo la nazione il paese la città ogni singola istituzione ogni singola struttura sociale viene viene condizionata dai potenti questo concetto è abbastanza accettato all'epoca no infatti il film in America andò malissimo cioè andò abbastanza male e un po' probabilmente si pensa anche perché chi vedeva questo film si riconosceva troppo nei cattivi nei queste persone qua che che poi alla fine sono così questo questi altoborghesi un po' tiranni un po' fasci un po' tiranni mentre invece andò andò molto meglio andò molto meglio nell'Inghilterra e poi nel resto del mondo in Italia in Spagna ecc certo nel resto del mondo andò meglio chissà come mai comunque stranamente questo film non ebbe un successo mondiale ma piano 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 diventò un cult e con l'avvento di internet sia questo che tantissimi altri film horror sono diventati super famosi tant'è che registi appunto come Brian Yuzna si sono trovati dal passare dal praticamente essere quasi dimenticati quasi dimenticati cioè nel senso apprezzati solo da una nicchia dai circuiti del cinema ai circuiti dei festival ai circuiti delle riviste dei critici di questo del genere chiaramente perché l'horror è sempre stato discriminato è passato a diventare popolarissimo grazie a internet quindi lui si trova adesso nella situazione in cui tutti gli chiedono interviste tutti gli chiedono del film tutti lo invitano ai festival fanno edizioni speciali come questa qua di Midany Factory quindi è molto bella questa cosa se ci pensate del cinema cioè come internet abbia veramente dato bam una una grossa spinta di entusiasmo al cinema horror a 360 gradi possiamo dire veramente in ogni aspetto in ogni ambito tra l'altro viene da dire che anche questo è uno dei temi che saranno trattati al talk in modi diversi sicuramente perché si parla di cinema indipendente però veramente lo dico per puro caso perché effettivamente ci stavo pensando nel talk che ci sarà il Drag Me Too Fast domenica 19 giugno si parlerà proprio di come internet possa veramente essere un appoggio importante ormai per il cinema perché una volta io facevo un film fosse indipendente o anche un film con un grosso investimento ma comunque indipendente poi c'erano o le riviste o i festival non c'era nient'altro non c'era nessun modo di far girare circolare non solo il film ma anche solo un poster un'immagine non girava non circolava oggi è tutta un'altra cosa oggi chi fa un cortometraggio si fa una locandina la fa girare con l'aiuto degli amici con l'aiuto delle fan delle fanpage dell'horror siti blog di tutte le dimensioni tutte le portate come questo canale come il mio sito eccetera eccetera quindi è molto interessante come in realtà questa penalizzazione dell'horror che ha colpito grandissimi registi per tanto tempo adesso si è sparita cioè loro addirittura adesso stanno riconquistando quell'autorevolezza che non avevano mai conquistato effettivamente quando i media erano diversi quando c'erano quei media lì cioè o venivi pubblicato su una rivista di settore famosa e lì dicevano che il tuo era un bel film oppure andavi a un festival e lì ti dicevano hai vinto questo premio perché hai fatto un bel film se no fine ti tenevi il tuo film e oltretutto non avevi neanche i feedback del pubblico mentre oggi chi vede un film fa un post lo pubblica su un social e dice figata sto film ve lo consiglio quindi oggi è veramente un mondo molto particolare molto molto bello sotto un certo punto di vista veramente molto figo per il cinema si parla spesso male di come del web come ha reso tutti esperti di cinema no in realtà Yuzna in uno dei contenuti speciali che c'è qua dice una cosa bellissima dice noi le persone oggi sono molto più esperte di cinema di noi che avevamo meno possibilità di vedere i film oggi le persone guardano tonnellate di film e secondo me per quanto ci siano tantissime persone ignoranti e tantissime persone diciamo arroganti eccetera è vera questa cosa qua anche le persone più diciamo non dentro sono più colte non dentro al cinema quindi non quelle che l'hanno studiato non quelle che ci mettono un certo tipo di atteggiamento ma quelle persone normali hanno molta più cultura cinematografica rispetto a una volta perché una volta per avere cultura cinematografica dovevi andare nei cinema e se eccetera e guardarti tutta una serie di film che non avresti mai trovato in giro e comunque la quantità di film che le persone guardavano era decisamente inferiore a proposito quanto trovate qui dentro voglio dirvi due cose poi magari sul finale parlo un po' di alcuni aspetti del film ma vi avviserò chiaramente è un film grottesco è un film body horror molto body horror forse uno dei film horror più body horror che ci siano basato sulla paranoia basato sulla paranoia chiaramente il tema è la paranoia cioè il ragazzo vede cose e non si capisce se queste cose sono vere reali oppure c'è qualcosa che non va nella società intorno a lui ovviamente c'è vi ho raccontato il discorso della sessualità la paura di scoprire i genitori che fanno sesso peggio ancora di scoprire che fanno orge e poi che fanno sesso incestuoso con la sorella quindi questa è una paura è molto interessante come il discorso della paura di sapere che i tuoi genitori fanno sesso questa è una paura abbastanza diffusa nessuno vuol sentire questa cosa nessuno la vuole pensare o immaginare qua è trasformata in una scenetta horror in qualcosa che terrorizza il protagonista e che a noi chiaramente fa divertire riapro l'edizione tra l'altro io ho una bellissima edizione numerata 0009 è fighissima devo dire che questa illustrazione fatta da Mattias fatta da Mattias Mazzetti ho dato una migliore per vedere l'edizione questa questa illustrazione è veramente tra le mie preferite di quelle uscite con la quella della Mindana Factory io sono un grande fan dell'edizione della casa nera sto parlando dell'illustrazione chiaramente e quella di Carrie questa questa nuovissima si colloca veramente tra nel podio tra le più belle adesso non saprei dire quale preferisco però veramente la mi piace tantissimo mi piace tantissimo anche questo colore un po' un po' più rosa un po' più glam un po' più da non so questo rosa da Beverly's proprio dentro chiaramente c'è il solito bootleg due dischi uno per il film uno uno ha il film e alcuni contenuti extra e l'altro ha i contenuti extra poi c'è una cartolina bellissima questa cover questo poster dell'epoca e il libretto con un'altra illustrazione inquietante che vi farà capire un po' le cose strane che ci sono nel il film vi faccio vedere una cosa singolare questo è vabbè uno a cui gli escono gli occhi dalla faccia e questo è uno che ha una faccia attaccata al culo esattamente ci sono un po' di cose viscide nel film un po' di cose viscide consigliatissimo io l'odoro qua c'è una simpatica scenetta di famiglia un po' ambigua mamma papà e figlia immaginate di tornare a casa e trovare i vostri parents in queste condizioni qua c'è anche la bellissima copertina il libretto è molto figo curato da nocturno che dire stupendo allora all'interno trovate un intervento intervista a un festival un'altra intervista di 15 minuti che sono diciamo un po' sono entrambe molto divertenti ma sono un po' ripetitive devo essere onesto nel senso che l'intervento al festival è divertente perché comunque c'è la gente che reagisce alle alle battute alle cose che dice Brian Yuzna mentre invece l'intervento di 15 minuti che è proprio un'intervista non so presa da dove insomma loro raccolgono tutti i materiali che trovano e li mettono dentro è più pettinata insomma più curata tecnicamente però ripete le stesse cose che ci sono che sono dette al festival quindi in quello l'ho trovata un po' un po' noiosa poi c'è un altro intervento bellissimo che mi spiace veramente tantissimo non farvi vedere che è un Brian Yuzna giovanissimo non so dove hanno recuperato questa clip dura pochissimo qualche tipo tre minuti quattro minuti c'è un Brian Yuzna giovanissimo anni 80 proprio che parla inizia introducendo il suo film ma poi parla in modo estremamente appassionato e anche un po' con forza difende il cinema horror e spiega un po' perché secondo lui è un cinema importante e perché non va discriminato ecco questa cosa noi non la sentiamo come la sentivano loro perché il cinema horror non è più discriminato come lo era all'epoca è discriminato però non al punto che uno passa le giornate a incazzarsi perché comunque vincono gli horror vincono i festi Titan è comunque un film horror in parte e ha vinto è comunque un thriller horror e ha vinto il festival di Cannes insomma ci sono dei casi in cui l'horror comunque viene celebrato anche nei nei luoghi in cui di solito veniva snobbato veniva messo da parte quindi però questa intervista di Yuzna è stupenda veramente sono 3-4 minuti appassionatissimi e poi è anche bello vederlo giovane già così così molto intelligente dice delle cose veramente molto intelligenti è veramente un peccato non poter velo far vedere è un contenuto chiaramente del degli extra di questa edizione qua intanto la metto via così poi vi faccio rivedere poi c'è un'intervista esclusiva realizzata da Midnight Factory fatta tramite una collegamento via webcam molto 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 dettagliata e lunga su appunto la lavorazione del film anche lì c'è tutta una parte un po' ripetitiva effettivamente però poi c'è ci sono anche degli elementi in più ci sono degli argomenti che non sono stati trattati e in più sul finale c'è una bellissima diciamo ragionamento di di Usna perché a un certo punto poi inizia a parlare e veramente va va per i fatti suoi e parla della figura del mostro nel cinema e nella realtà ed è veramente molto bello molto bello da sentire è interessante un'intervista abbastanza lunga curata da Maglio Gamarasca per appunto Midnight Factory veramente molto figo l'edizione ovviamente si vede da dio perché è un remaster e niente ragazzi per me rivederlo rivederlo oggi dopo tutto questo tema cioè io non mi ricordo neanche quando l'ho visto decenni fa e vederlo oggi così con questa qualità poi con l'occasione anche di appunto vedere contenuti speciali e scoprire veramente tutti i retroscena è proprio un'altra cosa è proprio come scoprire quasi un film nuovo perché sì è vero cioè mi aveva colpito all'epoca e all'epoca mi ricordo che avevo pensato che figata d'idea che è genialata quanto è politico in realtà poi Juzna lo ha detto anche più volte questo aspetto politico in realtà non era così voluto è venuto proprio spontaneo cioè e secondo me è una cosa che accade abbastanza spesso nel cinema cioè non è ragionato spesso non è ragionata la componente politica la componente sociale che viene messa nei film è semplicemente lo scrittore lo sceneggiatore il regista che si esprime vivendo in un contesto gli viene naturale raccontare il suo quotidiano sia negli aspetti più privati sia negli aspetti più ampi sociali quindi chi fa un film oggi parlerà sicuramente avrà sicuramente influenze legate al discorso dei virus delle malattie delle pandemie è ovvio cioè non è una questione anche di moda è proprio una questione di bisogno profondo recondito dell'uomo di esprimersi e quindi a volte lo fa anche in modo inconscio troverete tantissimi adesso film al di là quelli che sono nati a ridosso della pandemia troverete tantissimi film in futuro che avranno degli aspetti di questo tipo sicuramente i più fighi saranno quelli in cui questi questi argomenti saranno trattati con un modo più sofisticato e meno esplicito vediamo adesso parlo vediamo parliamo due secondi del della parte qualcuno di voi l'ha visto questo film qualcuno di voi l'ha visto perché io ho sentito un paio di persone che non l'hanno visto ma io sono io sono molto contento del fatto che ci siano persone che non l'hanno visto perché poi in realtà society non è proprio non è nightmare capito che dici vabbè quello l'hanno visto quasi tutti a parte che voi avete visto c'è ci sono delle scene di nudo ci sono delle scene che parlano sono proprio c'è l'argomento sesso c'è l'argomento incesto ma non non aspettatevi una cosa raccapricciante disturbante in maniera lieve sì però non è un film morboso nel senso che vuole puntare sugli aspetti sessuali anche se c'è una componente sessuale è veramente un film che vuole raccontare la paranoia e appunto il predominio di una classe sociale è un po' come se fosse una sorta di invasione degli ultracorpi in versione in un altro visto in un'altra ottica nell'ottica delle delle classi sociali e della classe dominante nell'invasione degli ultracorpi c'è la classe dominante cioè i dominanti sono gli alieni che arrivano sulla terra e vogliono dominare le persone sostituendosi alle persone mentre invece qua è un altro gioco un altro un altro meccanismo però è veramente lo stesso meccanismo dell'invasione degli ultracorpi o di altri film simili sì sì visto mi ricordo che all'epoca non leggiai la VHS poi comprata un gran film sì sì è un film eccezionale tra l'altro ho esordito dicendo non è un capolavoro e questo è interessante per i discorsi che facciamo sempre sui film che non devono essere necessariamente dei capolavori questo film è un film che ha un'ottima idea ha un'ottima idea che è legata appunto al body horror che vedrete nella fase finale del film ma anche alcuni accenni verranno fatti prima su cui è costruita una storia lo stesso Yuzon ha detto nelle interviste dice è importante avere un'idea e poi la storia la fai tornare perché con la logica la storia la fai tornare ma l'idea l'intuizione ti arriva dal tuo subconscio lui gli dice ascolta il tuo subconscio un sogno che hai fatto lì c'è tanta creatività nel lasciarsi andare ai pensieri e su questo loro hanno costruito questa storia in effetti il film di per sé anche se è girato bene non ha grossi problemi non è non è Halloween non so come dire non ha quella bellezza estetica sotto certi aspetti chiaramente non tutti perché in alcuni momenti è anche bello esteticamente soprattutto nelle parti appunto horror che sono le parti preferite di Yuzna perché Yuzna è un fan dell'horror è un amante degli effetti speciali e quindi le parti che sono più curate secondo me sono proprio quelle horror quelle con lo splatter in realtà qua non c'è proprio dello splatter è qualcosa di è qualcosa veramente di nuovo rispetto al solito splatter però appunto non ha quella releganza estetica che può avere un regista come come Ridley Scott o Kubrick cioè per quello dico non è un capolavoro ma è un film che è un piccolo gioiello veramente un piccolo gioiello perché c'è una grandissima idea alla base semplice ma originalissima su cui è costruita una storia semplice di paranoia che funziona che diverte e che alla fine involontariamente racconta anche qualcosa di politico qualcosa di intelligente di politico che oggi viene apprezzato sicuramente di più perché il concetto di classe dominante è più accettato come idea all'epoca non era accettato assolutamente tra l'altro c'è un sto cercando di non spoilerare però questa è una chicca che voglio dire quindi se chiudete se chiudete la chiudete l'audio per non sentire quando quando faccio così finisco lo spoiler dico una roba spoiler poi non non ne dico più perché poi alla fine potrei soffermarmi tanto sulle parti di effetti speciali molto belle fatti da da un giapponese veramente c'è degli effetti speciali incredibili però una cosa la voglio dire per cui adesso finché non mi vedete agitare le mani faccio spoiler da qua faccio spoiler allora sapete che alla fine c'è questo fantomatico mescolamento di di persone allora intanto mi è piaciuto tantissimo il concetto di di mescolamento chiaramente come è piaciuto e quella l'idea il mescolamento è il cosiddetto succhio cioè succhiare le persone perché le vittime le vittime della società di society cioè di questo gruppo di persone vengono succhiate letteralmente succhiate vengono divorate succhiate in qualche maniera e e c'è anche il concetto di fusione dei corpi cioè mentre queste persone vengono succhiate a ridere ha detto così bene i corpi si fondono e si crea una mega orgia di corpi che si fondono l'uno con l'altro una cosa mai vista prima ecco quest'idea quest'idea adesso vi faccio vedere l'immagine poi quando ho finito lo spoiler avviserò facendo dei segni con le braccia questa immagine nasce grazie anche al ispirandosi anche al quadro di salvador dalì il grande il grande masturbatore che vi faccio vedere è un quadro abbastanza famoso ma non il più famoso ce ne sono alcuni che sono più più visti vi faccio vedere il quadro e questo quadro di dalì che chiaramente mostra ciao mattias tu arrivi parlo del grande masturbatore che sono io il grande masturbatore motivo per cui manco questi occhiali mi servono più sono in un momento spoiler poi chiudo la parte spoiler perché c'era qualcuno in chat che non che non adesso stai qua stai qua stai qua non te ne andare che ti frego stavo raccontando che appunto si sono ispirati anche a questo quadro e chiaramente se vedrete il film per chi non l'ha visto vi accorgerete che ci sono delle scene che richiamano appunto questo quadro fantastico per cui se siete amanti dell'horror di society potete comprarvi una stampa del grande masturbatore ci sono due versioni della stampa una con la mia faccia e una col quadro di dalì e mettervela in camera quindi state attenti a quale versione comprate fine della parte spoiler fine della parte spoiler quindi se volete chi ha disattivato l'audio poi mi metterò un cartello mi metterò una scritta qua quando faccio lo spoiler così si mi ricordo che anche quel sottile umorismo che fa sottofondo al film come le stesse musiche sono allegre da gag si le musiche sono abbastanza strane in alcuni casi sono proprio musichette che dici ma che cazzo di musica c'è sotto cioè in effetti si il senso è proprio probabilmente rendere un po' un po' assurdo il tutto ho detto tutto su society però vi voglio parlare di un altro film prima ci spariamo un trailer di un altro di un altro di un altro Grazie a tutti.